Allora, le emozioni. Sì, è una terra abbastanza sconosciuta, perché le emozioni che oggi vengono da alcuni valutate ed elogiate. Se un film non vi emoziona, un film non è bello, dite, no? Se un libro non vi emoziona, lo chiudete. Dall'altra parte c'è chi invece mette in guardia dai pericoli delle emozioni, perché se uno si comporta solamente su base emotiva, diventa un personaggio pericoloso. Quindi c'è una certa ambivalenza, una certa ambiguità, anzi, nei confronti delle emozioni. Ho detto che si radicano nella parte più antica del nostro cervello. Noi abbiamo la corteccia cerebrale, che è sete della razionalità. Sotto la corteccia cerebrale, qua dietro c'è il cervello antico, che è il cervello degli animali. Ecco, le emozioni si radicano nel cervello antico, quindi non sono controllate dalla razionalità, e hanno i loro effetti sulle parti superiori della nostra psiche. Hanno effetti sul sentimento, sui nostri vissuti, sulle relazioni sociali. E quindi è una cosa anche qui un po' ambivalente quanto al loro significare, i loro effetti e le loro radici. Che cos'è un'emozione? Un'emozione è una reazione affettiva, sottolineo affettiva, non è razionale, è un moto dell'affettività. affettività non vuol dire solamente ti amo, ti amo, ti odio, anche l'odio è l'affettività, riguarda la sfera affettiva. È una reazione affettiva di insorgenza acuta, ci vuole una preparazione per avere un'emozione, e di breve durata. Di fronte a uno stimolo del mondo reale, come può essere un pericolo, allora mi scatta subito la paura, oppure di uno stimolo mentale, come può essere un ricordo, allora magari ricordo un lutto e mi metto a piangere. Vediamone un po' da vicino queste emozioni. Vediamo queste emozioni, cominciando magari dalla paura. In tempo di Covid abbiamo parlato spesso di paura, ed era la parola più sbagliata del mondo. Noi del Covid non avevamo assolutamente paura. Del Covid noi avevamo angoscia. Perché la paura è un ottimo meccanismo di difesa, per cui davanti a un pericolo la paura mi induce a scappare, oppure ad affrontarlo, non mi lascio indifferente. Mi difendo attraverso la paura. Ma nei confronti del Covid come facevate a difendermi? La paura ha sempre un oggetto determinato. I bambini che non hanno paura di niente sono da curare continuamente, perché non si sa se i loro comportamenti non li portano a fare disastri. Se un bambino prende in mano un bicchiere di vetro, la mamma glielo toglie. I bambini non hanno paura di niente, perciò vanno accuditi, però hanno angoscia. E l'angoscia non ha un oggetto determinato. L'angoscia il bambino la prova, ad esempio, quando va a letto e se nel caso non sia ancora addormentato, la mamma spegne la luce, esce dalla stanza e il bambino si mette a sfrillare. Perché? Dov'è il pericolo? Non c'è un pericolo, per cui il bambino non ha paura. Ha angoscia. L'angoscia si determina quando non c'è nessun punto di riferimento, nessun punto noto a cui fare riferimento. Per cui ci si sente persi nel nulla. Quella è l'angoscia. Non ci si angoscia per questo o per quello. Ci si angoscia perché non c'è nulla a cui fare riferimento. Anche gli adulti possono essere angosciati, ma se gli chiedi di che cosa, non ti sanno rispondere. Oppure ti rispondono di tutto. Allora distinguiamo bene paura e angoscia. Siccome noi il Covid non sapevamo dov'era, chiunque di noi poteva essere un portatore, non era indicabile dove poterlo sconfiggere. Quindi non potevamo avere paura, avevamo angoscia. Ecco, queste cose non sono semplicemente le differenze verbali, perché se cominciamo a confondere le parole rispetto a quello che significano, non ci intendiamo più. Non so, un altro sentimento può essere la gelosia. Gelosia è vecchia quanto il mondo. Anche gli uomini primitivi erano gelosi, perché la femmina non voleva che il maschio si innamorasse di altre femmine, perché se no non sapeva più come portare avanti i neonati e i figli. E d'altra parte i maschi non volevano che la loro femmina andasse con altri uomini, perché non voleva allevare figli che non erano suoi. Quindi la gelosia era antichissima. E ha due aspetti, la gelosia. Quella più semplice è quella competitiva. Io amo una donna, un mio amico me la porta via e allora io comincio ad essere geloso. E questo è abbastanza naturale. Ma quella più tremenda invece è quella proiettiva. Io voglio tradire, ma non ho il coraggio. Allora trasferisco questo mio desiderio nella donna che vive con me e ipotizzo che lei mi tradisca. Anche in questo caso è molto frequente. E induce degli atteggiamenti di tipo paranoico. Cioè un controllo generalizzato, sapere dov'è, cosa fa, in che luogo, con chi. Semplicemente perché proietto su di lei un desiderio che è mio e non è suo. Per cui ogni volta che proviamo un'emozione di gelosia, stiamo attenti se la faccenda riguarda davvero quell'altro oppure riguarda noi stessi. L'ira. L'ira si manifesta quando io mi pongo un obiettivo e non riesco a raggiungerlo. E qui Aristotele ci dà un'indicazione molto bella. Dice, arrabbiarsi è facile. Molto più difficile è arrabbiarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nella maniera giusta, nel modo giusto e per una giusta causa. Ecco, se rispettiamo queste cinque condizioni possiamo anche arrabbiarci. Ma se invece ci arrabbiamo semplicemente perché le cose non vanno secondo il nostro verso, siamo fuori strada. Poi, che non so quale altre figure possiamo prendere in considerazione, il disgusto. Anche il disgusto è un'emozione. Viene rubricata tra le emozioni negative. Niente affatto. Un'emozione molto positiva. Perché attraverso il disgusto io evito di mangiare cose che mi fanno male. e perciò le chiamo disgustose. Non è mica detto che quello che è disgustoso per te è disgustoso per tutti. Perché il nostro corpo è diverso da uno dall'altro e alcune cose sono disgustose per me e per altri no. Il disgusto è stata la prima condizione per cui l'umanità ha potuto sopravvivere. Perché senza il disgusto... Cioè l'umanità che cosa ha dovuto affrontare appena è apparsa sulla faccia della Terra? Ha dovuto cercare cibo ma però non sapeva qual era quello buono e quello velenoso. E quindi qualcuno è morto per aver preso quello velenoso. Dopodiché si è imparato che quelli che sono morti perché hanno mangiato quella roba o quella roba non va mangiata e quelli che rimaste vivi. Due problemi aveva l'uomo primitivo. Trovare cibo e non diventare cibo per altri. E allora nel primo caso era regolato dal disgusto e nel secondo caso dalla paura. La paura è sempre un oggetto determinato. Sempre un punto di riferimento rispetto a cui si ha paura. Poi c'è il riso e il pianto che sono due emozioni tipicamente umane. Gli animali non ridono e non piangono. E' un'emozione dell'uomo. E anche qui potete considerare la differenza che c'è tra la visione della neurologia, di questi due fenomeni, e la considerazione della psicologia. Perché dal punto di vista della neurologia il pianto e il riso sono la stessa cosa perché impegnano lo stesso sistema muscolare e lo stesso sistema nervoso. Dal punto di vista del significato il riso non è il pianto e il pianto non è il riso. Per cui non dobbiamo, come fanno tendenzialmente le neuroscienze, risolvere problemi psicologici in problemi neurologici. Perché la neurologia mi dice come accadono i fenomeni, ma non mi dà il significato dei fenomeni. E noi viviamo di significati e non di condizioni per cui i significati si manifestano. Un'altra emozione può essere l'emozione estetica. quella che viene rubricata come sindrome di Tandall. Tandall una volta è andato a Milano, Firenze, Roma. Quando era a Firenze è andato a vedere gli uffizi e ha avuto delle crisi spaventose. Tachicardia, allucinazioni, svenimenti. L'hanno preso e hanno portato l'ospedale e l'hanno un po' ricostruito. Questo non è un fenomeno che è capitato sulla Tandall, capita ancora oggi. Capita ancora oggi. Ho letto un libro di una psichiatra fiorentina si chiama Graziella Magherini nella quale racconta che non è assolutamente infrequente il caso di alterazioni psichiche nella visita dei quadri. E questo perché ma l'ipotesi che è più probabile è quella che sono persuaso anch'io che accade a questo fenomeno. Le opere d'arte non sono mica costruite dalla ragione. La ragione è un sistema di regole e con le regole non si combina niente in termini di creatività. Le opere d'arte sono frutte dalla follia che ci abita. infatti gli artisti hanno tutte le vite abbastanza complicate. che noi abbiamo anche una componente di follia altro che componente. Abbiamo un abisso di follia dentro di noi. basta guardare i nostri sogni appena la coscienza si addormenta e salta fuori il teatro dalla pazzia. non funziona il principio di non contraddizione che è il principio della ragione per cui io sono lo spettatore del sogno ma contemporaneamente sono l'attore del sogno. Sono due cose in una sola scena. Oppure io che sono un maschio nel mio sogno la protagonista del sogno è una donna ma quella donna sono io. Oppure sono adulto e però quel bambino protagonista del sogno sono io. Non funziona il principio di non contraddizione. Non funziona il principio di causalità perché molto spesso l'effetto produce la causa. Non funziona il rapporto di spazio e tempo. Un sogno comincia a New York e finisce all'impero romano. È la pazzia. Bene il poeta l'artista per creare deve attingere questa parte qua. Per questo per esempio Heidegger dice che i poeti sono i più arrischianti perché quando tu attingi la tua parte folle questo essendo molto più potente della ragione ti può trattenere e vai fuori di testa per sempre. Sono i più arrischianti. E Carli Aspers che è stato il più grande psicopatologo del Novecento dice che quando voi ammirate una perla dimenticate che la perla è la malattia della conchiglia e senza la malattia dell'autore senza lui dice la schizofrenia dell'autore quell'opera non sarebbe mai nata. Quindi attenzione ragione è follia. La follia ci abita e siccome la creatività trae la sua sorgente dalla nostra follia c'è la possibilità che la follia dell'autore che ha fatto quel quadro attraverso il quadro mette in azione la nostra follia e porta al colasso della ragione non sono fenomeni stranissimi sono fenomeni di chi si compenetra nella visione di un quadro c'è chi passa le gallerie siccome ci sono tanti quadri fa collezionismo deve vederli tutti e non li guarda nessuno e c'è chi si ferma su un quadro perché quel quadro non ha mai finito di dirgli qualcosa e lì incomincia incomincia il rischio che precipiti dalla stessa condizione psichica dell'autore di quel quadro un'altra emozione è l'emozione empatica che cos'è l'empatia è la capacità di sentire in qualche maniera quello che passa nella testa e nell'animo di un altro i neurologi hanno inventato i neuroni specchio come se io attraverso questi neuroni specchio catturassi quello che passa dentro nell'interiorità di una persona altri neurologi dicono che i neuroni specchio non esistono ma lasciamo che loro si dividano nei loro studi comunque l'empatia è la capacità di percepire cosa sente e cosa pensa l'altro è una doccia che si può imparare no o ce l'hai o non ce l'hai e se non ce l'hai devi fare a meno di fare certe professioni tipo l'insegnante tipo il medico tipo il giudice mi riferisco a questi che non sono mestieri sono missioni in qualche maniera umane che non possono essere esercitate se io non ho un minimo di empatia oggi l'empatia è poco diffusa soprattutto tra i giovani e qui mi riferisco a quello che io vado chiamando risonanza emotiva quando io mi comporto in un certo modo compio un atto oppure un altro ho una risonanza emotiva di questo mio comportamento al punto che Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente usa il verbo sentire fühlen naturalmente da sé oggi non è più vero che sentono naturalmente da sé i giovani di oggi la differenza non tutti naturalmente quelli che non hanno empatia che sentono naturalmente da sé la differenza tra insultare un professore cosa che più o meno abbiamo fatto tutti senza farci sentire naturalmente o prenderla a calci adesso ci provano anche i genitori oppure la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla e non sto esagerando perché quando mi capita per scrivere qualche articolo da qualche parte di leggere i resoconti la risposta che gli stupratori danno ai rispettivi giudici delle indagini preliminari alla domanda perché l'hai fatto ma non ti rendi conto che è una cosa tremenda quella che hai fatto e loro rispondono ma cosa abbiamo fatto cosa c'è di strano ecco qui non c'è la risonanza emotiva dei propri comportamenti è un problema questo un problema a cui dovrebbe porre rimedio innanzitutto la famiglia ma oggi le famiglie sono tutte disastrate e poi la scuola e la scuola questo lavoro non lo fa perché la scuola italiana non educa al massimo quando ci riesce istruisce e allora si diffondono questi personaggi e sono pericolosi picchiare un handicappato e non sentire niente dar fuoco a un immigrato che dorme su una panchina e non sentire dentro di te niente che ti rimprovi è molto pericoloso perché domani tu puoi ammazzare senza avere nessuna risonanza emotiva dentro di te cosa per esempio non so se quelli vecchi come me ricordano nel 98 Erika e Omar un ragazzino una ragazzina e il suo fidanzatino hanno ucciso la madre della ragazzina il fratello della ragazzina e non è qui il momento in cui tu constati che non hanno risonanza emotiva ma subito dopo quando hanno commesso il delitto dicono le carte dei giudici e sono andati come al solito nel solito bar a bere la solita birra quindi quel giorno per loro non era successo niente di diverso degli altri giorni questo significa mancanza di risonanza emotiva e da ultimo cosa c'è? c'è l'amore e l'amore come dice giustamente Platone l'unico che ha capito che cos'è l'amore l'amore è semplicemente la follia anzi Platone la indica come la più eccelsa la più divina ma però è follia provate a dire a un innamorato guarda che quella ragazza non va bene per te o viceversa guarda che quella ragazza non va bene per te e vi sentite rispondere sì lo so ma non posso farci niente ecco quindi vuol dire che la ragione è fuori gioco dal resto l'amore si chiama passione e passione vuol dire che l'io la parte razionale di noi stessi patisce una potenza che lui non governa queste sono le passioni e appartiene alla follia dopodiché non vi sto a fare una conferenza sull'amore ma sarebbe molto bello capire bene che cos'è questa configurazione che noi siamo soliti guardare sempre sotto un profilo romantico che è il profilo proprio più ingannevole della storia della letteratura ecco fermiamoci qua se no dopo non riusciamo a finire il nostro discorso dunque veniamo alle passioni di oggi un po' ho fatto la descrizione di come sono fatte queste emozioni emozioni e passioni più o meno si equivalgono perché l'emozione tu la subisci non è che la generi generi un ragionamento generi un linguaggio generi la parola generi un pensiero generi un atto ma l'emozione non la generi ti prende ti sorprende ti prende alle spalle per cui la patisci in questo senso dico che emozioni e passioni possono essere benissime equiparate e oggi le passioni come sono? e oggi le passioni hanno delle distorsioni spaventose dovuto al fatto che noi viviamo nell'età della tecnica e con la parola tecnica non intendo i prodotti tecnologici il telefonino il frigorifero l'automobile il computer questa è tecnologia la tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta nella storia a regolare la tecnica è solo la razionalità e cosa consiste questa razionalità? consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questo tipo di razionalità questo tipo di razionalità governa anche il mercato però il mercato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esclusa la tecnica non interessa il denaro il raggiungimento del denaro del profitto per cui la tecnica è la forma più alta di razionalità questo cosa significa dal punto di vista umano che tu vai a lavorare non è che nel lavoro puoi esprimere te stesso nel lavoro devi compiere nel modo più perfetto e rapido possibile le pretese o quello che ti chiede l'apparato di appartenenza e basta questa razionalità è stata ideata dal nazismo per cui la tecnica non è altro che la grande espansione di questo modello nazista il modello nazista prevedeva questo davvero racconto con un esempio un giorno un giornalista ungherese a Gitta Sereni intervista il direttore del campo di concentramento di Treblinka e gli chiede cosa provava lei a fare le cose che faceva e lui non risponde mai alla fine Gitta Sereni le viene un'intuizione vuoi vedere che Franz Stangli non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda e a un certo punto Franz Stangli risponde ma scusi lei perché continua a chiedermi cosa provavo io non ero incaricato di provare qualcosa io ero incaricato di eliminare 3.000 persone entro le 11 del mattino 5.000 entro le 5 del pomeriggio il metodo l'avevo ideato e io ero un perfetto un funzionario questo è l'età della tecnica se un capo area dice a un funzionario di banca mi deve vendere mille titoli deteriorati a chi non se ne intende di finanza me ne deve vendere mille al mese quello può avere un problema di coscienza può sentire una ribellione in terra può fare qualcosa sì alla sola condizione di essere licenziato e allora che cos'è il bene e il male nell'età della tecnica non riguarda quello che fai riguarda come lo fai e quali sono i valori della tecnica produttività efficienza velocizzazione del tempo se lavori lentamente ti licenzio se non produce abbastanza ti licenzio se non sei efficiente trovo un altro posto di lavoro la tecnica esegue esattamente il modello nazista senza la crudeltà del nazismo ma con gli stessi effetti più o meno perché quando uno è espulso dall'apparato lavorativo si trova nella condizione di subire un'esclusione sociale noi che italiani che siamo i più bravi del mondo a costruire le mine anti-uomo se chi le costruisce su 100 99 funzionano è un bravo operaio se invece ne funzionano solo 50 non è un bravo operaio e allora cosa conta quello che fa o come lo fa e poi tutti chiunque va a lavorare si rende conto che il come decide cosa è bene cosa è male il che cosa non ti riguarda non ti riguarda perché non so c'era un esempio mi ricordo quando junior senior è andato a invadere l'irak per ammazzare saddam con la scusa che aveva le armi chimiche in realtà non ne aveva neanche una di armi chimiche ma l'america interessava pagare il petrolio secondo quanto decideva lei e cosa è successo che c'era la banca nazionale del lavoro un'agenzia canadese della banca nazionale del lavoro che faceva traffici finanziari con le arac prendiamo un impiegato che lavora in questa agenzia o non conosce l'esito finale che la dirigenza decide nell'impiego del denaro nell'investimento del denaro o non lo sa perché lui ha un settore deve fare quello previsto nello suo settore oppure lo sa ma non è di sua competenza e quindi non deve rispondere basta così funziona allora nell'età della tecnica dovevano finire i sentimenti il più possibile fuori gioco il più possibile fuori gioco per cui io sono arrivato a formulare l'espressione di schizofrenia funzionale schizofrenia vuol dire scissione della personalità cosa grave in psicopatologia di cui non ne vieni fuori mai definitivamente e se poi questa cosa ti capita quando sei adolescente non vieni fuori mai perché schizofrenia perché io da lunedì al venerdì devo essere un funzionario di apparato che devo compiere le azioni prescritte e descritte dall'apparato poi sabato la domenica se ho ancora qualche interesse per me posto che ce l'abbia perché ciascuno di noi è diventato il peggior nemico di se stesso analisi interiori non ne facciamo mai sabato e domenica prendiamo la macchina andiamo a distrarci e dopo lunedì ricominciamo a fare funzionare di apparato ecco la tecnica tutto sommato vuole che tu diventi come il computer che hai davanti tutti i giorni perché il computer innanzitutto ha più memoria di te non va in depressione non litiga con la moglie non è di malumore non va in ferie prova a diventare così che funzioni bene allora a quel punto ecco i sentimenti devono essere eliminati solo che l'uomo non è solo razionalità abbiamo detto prima è anche follia è anche irrazionalità e le figure della irrazionalità sono per esempio il dolore irrazionale l'amore irrazionale l'immaginazione la fantasia l'ideazione il sogno sono tutte figure irrazionali bene nell'età della tecnica sta roba deve sparire perché è elemento di disturbo interrompe la perfetta regolarità razionalità e razionalità del procedimento tecnico noi viviamo in questo contesto lo sappiamo che viviamo in questo contesto oppure lo scopriamo adesso che viviamo in questo contesto perché se lo scopriamo adesso fino adesso siamo vissuti siano risaputa e non è la cosa migliore che ci possiamo augurare no oppure un'altra reazione che si può avere è molto frequente anche questa è esattamente il contrario siccome io vivo nella nell'età della tecnica in cui non posso esprimere i miei sentimenti le mie emozioni non posso piangere in pubblico non posso fare arrabbiarmi oltre una certa misura devo essere freddo anche nell'ira allora per compensarmi io vivo in base a quello che sento si può vivere in base a quello che sento quante volte vi sentite dire ah ma io sento così e allora che tu senti così vuol dire che in questo preciso momento tu stai dicendo che la regola della vita è quello che tu senti è quello che sentono gli altri non te ne importa niente chi ragiona sulla base di quello che io sento spezza il legame sociale ma un individuo che spezza il legame sociale non è più un uomo perché l'uomo è un animale sociale Aristotele diceva se un uomo entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri o è bestia o è Dio e a proposito di Dio diceva non si sa se Dio è felice perché Dio è monaco se è solo cioè l'uomo è un animale sociale zon politikon diceva Aristotele è un animale che vive nella polis nella città insieme agli altri e se tu ti regoli in base a quello che senti diventi un personaggio pericoloso ma questo determina anche un cambiamento del concetto di libertà per cui sento che posso revocare tutte le mie scelte mi sposo però so anche che posso divorziare resto incinto però so anche che posso abortire cambio ho lavoro in questo posto però so di cambiare lavoro cioè tutte le nostre scelte vengono regolate sulla base della reversibilità delle nostre scelte è una vita che si compie sulla base della reversibilità non costruisce nessuna biografia io vado ad abitare certi paesaggi tra di loro tra di loro non connessi in cui esprimo me stesso no esprimo le opportunità che la vita mi ha offerto punto a capo poi c'è l'esposizione delle emozioni è una cosa scandalosa ci sono le trasmissioni televisive a cui partecipano i giovani ma adesso vedo anche le persone adulte in cui gli intervistati sono chiamati a esprimere i loro sentimenti come fanno ad amare se amano o non amano o cose di questo tipo Maria De Filippi mi pare il prototipo di questo tipo di trasmissioni ora cosa vuol dire esposizione delle proprie emozioni vuol dire che quello che io sento intimamente diventa proprietà comune diventa roba di tutti e io mi privo della mia interiorità solo che se io esprimo i miei sentimenti questo mio comportamento è assunto come un'espressione di sincerità invece un'espressione di spudoratezza il pudore non è un problema di vesti di sottovesti il pudore è la custodia della propria interiorità e non metterla in piazza perché altrimenti io non ho più niente dentro di me ho messo fuori tutto e non confondiamo la sincerità con la spudoratezza però oggi viviamo così e anche quando si fanno interviste poi vogliono sempre sapere qualcosa di personale perché questo attrae la gente siamo curiosi siamo tutti dei wire siamo diventati negatevi ma lo dite le emozioni servono al mercato perché il mercato vi deve emozionare sennò come fate a comprare i prodotti e l'emozione è la precondizione allora cosa si fa c'era un grande pubblicitario che io mi ero molto dopo che si è convertito non al cotolicesimo ma si è convertito rispetto alla sua professione che si chiama Friedrich Baigbeder stato il più grande pubblicitario del novecento ha fatto un sacco di soldi perché è il più bravo di tutti poi verso la fine del novecento ha scritto un libro pubblicato da Fettrinelli intitolato Euro 39,44 il cui dice io sì sono un pubblicitario io inquino l'universo sono io che vi vendo tutta questa merda sono belle ragazze in photoshop scenari da scenari da adesso sto citando a memoria non mi vengono tutte le parole beh scenari fantastici fantastici quando voi avete messo via tutti i soldi per comprare la vostra nuova automobile io ne avrò già prodotto una nuova perché la caratteristica del nostro lavoro è che le cose nuove non restano mai nuove e diventano vecchie il giorno dopo della vostra felicità non me ne importa niente perché chi è felice non consuma bella revisione di se stesso molto interessante questo libro perché la pubblicità non produce non è che vende prodotti quando vi fanno vedere una macchina non è che vende un prodotto vende un bisogno fa insorgere in voi un bisogno e quando c'è una sufficiente percezione che i bisogni sono stati percepiti allora ecco il prodotto che voi comprate perché il bisogno è stato percepito non so se avete mai visto quelle code quando viene fuori un nuovo modello di iphone o cosa del genere è espressionante impressionante prima si crea il bisogno poi ecco il prodotto ed è molto più pericoloso chi produce bisogno di chi produce prodotti e infine le emozioni vengono utilizzate dai politici soprattutto dei politici populisti di cui nomi li conoscete cosa fanno i populisti siccome noi ci muoviamo in una società complessa dove è difficile decidere io per esempio se mi chiedessero un referendum vuoi o non vuoi le centrali nucleari io per decidere secondo ragione dovrei essere un fisico nucleare ma non sono un fisico nucleare e allora come faccio a decidere se voglio essere nazionale faccio riferimento a quel che mi dice un fisico nucleare visto che io non me ne intendo i populisti non vogliono la classe intermedia non la vogliono vogliono il rapporto diretto col popolo c'è il vaccino io non me ne intendo di biologia molecolare e allora dovrei sentire dovrei sentire un medico dovrei sentire un immunologo via gli immunologi via presa diretta col popolo e perché? cosa fanno i populisti? fanno un'operazione molto semplice tu in una società complessa non sei capace di muoverti allora io ti do con uno slogan ti do una direzione tu non ti par vero di avere in mano la chiave di lettura per poterti muovere e allora io voto quello lì perché mi ha convinto mi ha persuaso mi ha sedotto mi piace ma vi rendete conto che noi usiamo il like e il non like per votare i nostri rappresentanti politici a questo siamo arrivati mi piace e che criterio è questo? e purtroppo però la politica funziona così soprattutto oggi perché non ci sono più le ideologie e di conseguenza neanche più i partiti ci sono le persone personaggi mi piace non mi piace dopodiché ci lamentiamo che la politica non fa niente ma abbiamo noi usato questo criterio non ci siamo informati abbiamo tolto di mezzo le competenze intermedie tra l'ignoranza del popolo ma non perché il popolo è ignorante ma perché non è competente di niente organismi geneticamente modificati che ne so io dovrei essere un genetista per sapere qualcosa via quelli che se ne intendono ve lo dico io quello che funziona e voi siccome mi piace ci credete voi tutti ecco perché vincono i populisti e con quelli abbiamo questi fenomeni a cui assistiamo oggi bene e poi c'è quella cosa terrificante che si chiama la rete informatica e come incide la rete informatica sulle nostre emozioni incide in maniera notevolissima incide nel nostro modo di pensare e nel nostro modo di sentire ce lo cambia perché perché le emozioni perché la rete computer funziona l'informatica in generale funziona su un codice binario uno zero che tradotto significa che tu di fronte a un problema puoi dire sì o no o al massimo non so tutti i sondaggi funzionano così e così funziona anche tutto il nostro rapporto col mondo informatico ma se noi abituiamo alla nostra testa dire sì o no al massimo non so se abituiamo alla nostra testa dire mi piace o non mi piace se abbiamo un codice binario non riusciremo mai a muoverci con un certo giudizio in una società complessa come la nostra invece ci muovevamo con giudizio quando la società era semplice quando la società era fatta di contadini quali per tradizione sapevano quando bisognava seminare quando bisognava mongere le vacche quando bisognava fare una cosa e l'altra e veniva trasmessa era società semplice oggi sono molto complesse per cui noi possiamo reggere quando si dice democrazia possiamo reggere solo se se abbiamo se abbiamo un po' di cultura se sappiamo come devono andare le cose non dico di saperle come le sanno gli esperti ma approssimativamente è la cultura il fondamento della democrazia non la propaganda e la democrazia non è che ce l'abbiamo perché l'abbiamo conquistata ce l'abbiamo se la conquistiamo ogni giorno e siccome l'Italia è l'ultimo paese in Europa per la comprensione di un testo scritto vi rendete conto? il 70% degli italiani sa leggere e non capisce cosa sta leggendo benissimo fallimento totale dalla scuola di cui non voglio parlare oggi e però su questa base credete davvero che noi si possa difendere una democrazia senza che capiamo un bel niente di come funzionano le cose quando io sento dire da quelli che sono intervistati ah ma io di politica non me ne intendo vai via dalla società a questo punto perché la politica sei anche tu le tue decisioni decidono anche per gli altri ecco questo purtroppo la vedo bruttissima io non è un caso che i paesi liberali democratici tanto per intenderci dargli una definizione quelli che seguono la democrazia senza difenderla per altro perché la pensano acquisito per sempre e quando crolla la democrazia non avete neanche più la libertà libertà e democrazia sono la stessa cosa bene noi liberali democratici siamo un miliardo nel mondo siamo un miliardo e 300 milioni 6 miliardi e 700 milioni sono sotto dittature o poteri autocratici Russia Cina India Brasile capite come siamo fragili? e allora andiamo a rimorchio passivo? è molto pericoloso la democrazia va difesa continuamente attraverso la cultura non dicendo io voglio la democrazia no la cultura la cultura che ti consente di percepire come bisogna comportarsi di fronte a determinate decisioni e tu ti comporti in base a quello e non in base al mi piace e non mi piace poi riguarda il nostro modo di sentire il nostro modo di sentire cambia anche quello perché con l'informatica io con la rete io posso posso parlare con un amico in Australia posso nuotare nell'oceano senza bagnarmi posso entrare in relazione con persone lontane da me e questo cosa vuol dire? vuol dire che oltrepasso i limiti delle mie capacità psichiche perché la nostra psiche la nostra psiche è limitata a un raggio d'azione che fa riferimento solo al mondo circostante al nostro mondo ambiente al di là non va se mi muore una persona cara soffro se muore il mio vicino di casa faccio le condoglianze se mi dicano che ogni secondo muoiono dieci bambini al mondo di fame e di malattie a quel punto per me resta solo una statistica la mia psiche non sente questa cosa e non la vuol sentire anche per non toccare con mano la mia impotenza a modificare le cose Putin ha fatto le stesse cose che fa in Ucrania oggi le ha fatte dieci anni fa in Georgia le ha fatte in Cecenia le ha fatte in Siria esattamente le stesse devastando questi paesi però erano lontane le cose e noi ci siamo girati dall'altra parte non solo perché erano lontane ma perché non volevamo entrare in conflitto da questo paese che ci fornisce petrolio e gas adesso lo fa vicino a noi perché è le soglie dell'Europa l'Ucraina confina con la Polonia con l'Ungheria con la Repubblica Ceca con la Moldavia è vicino allora ci svegliamo con grande ritardo non è che Putin è diventato buono siamo noi che non abbiamo voluto vedere che il suo stile era questo ecco perché la nostra psiche non ce la fa da arrivare fino a lì e allora cosa succede? la rete invece ci mette in relazione col mondo ma è un mondo che non è accompagnato da un componente di una partecipazione psicologica perché la mia psiche non ce la fa siamo limitati e questo limite viene oltrepassato teoricamente attraverso l'informatica e però non viene oltrepassato accompagnato anche dalla nostra partecipazione psichica quindi resta pura informazione mentale e niente di più poi produce dei processi di derealizzazione ho detto prima che io posso andare a vedere Roma conoscere Roma senza esserci mai andato posso immergermi a fare il subacqueo senza aver mai messo neppure una maschera non posso mai aver visto il mare posso simulare tutte le azioni che non ho il coraggio di fare e quindi divento sempre meno abile per muovermi nel reale perché mi muovo solo nel virtuale quindi processi di derealizzazione e processi di desocializzazione la distanza sociale non l'ha inventata il virus il virus ci avrà costretto alla distanza virale ma non sociale perché la distanza sociale l'aveva già inventata l'informatica e già ci partecipavamo la distanza sociale significa che io parlo con uno schermo non parlo con te parlo con te attraverso uno schermo non è la stessa cosa e ve lo dico da psicanalista sapete che c'è un mucchio di gente che preferisce fare sesso con lo schermo piuttosto che con le persone reali perché è difficile è più difficile farlo con le persone reali perché le persone reali ti impegnano con il loro sguardo sono lì davanti a te mentre con lo schermo no capito anche il degrado dove si arriva processi di de socializzazione molto pesanti per cui dicevo prima parlo con il mio amico in Australia però dopo non conosco il mio vicino di casa il mio compagno di scuola l'amico del bar non li conosco più perché vivo in un altro mondo io non parliamo poi di quella macchinetta che abbiamo tutti in tasca che si chiama cellulare io ho resistito dieci anni per non prenderlo poi il direttore di Repubblica mi ha detto lo prendi o non scrivi più e non ho dovuto prenderlo e però attenzione che cosa fa il cellulare? il cellulare modifica terribilmente le nostre emozioni e ci induce delle patologie non indifferenti piacerebbe sapere quante divorzi quante separazioni e quante litigate e quante violenze si sono incrementate da quando ci sono i cellulari da uno va a spiare il cellulare dell'altro ma a parte questo il cellulare ti induce innanzitutto a un'intolleranza dalla distanza uno partiva arrivava a Venezia da Milano per tre ore era distante non si sapeva dove era quando arrivava a Venezia si trovava una cabina faceva una telefonata ma forse non era neanche necessario quello perché i telefoni non erano così frequenti come sono frequenti oggi oggi che abbiamo la possibilità di entrare in contatto con chiunque in un tempo rapidissimo appena vogliamo appena ci insorge l'emozione di volere non tolleriamo la distanza se io sono innamorato e mando un messaggio alla mia bella e la bella non risponde incomincia un'intolleranza della distanza divento nervoso l'intolleranza della distanza il telefonino ti dà anche l'illusione dell'onnipotenza che non è reale perché tu col telefonino puoi sapere dove è una persona che cosa sta facendo con chi è dove è puoi far sapere tutto di lei e questo ti trasforma in un investigatore privato aumentando in te il controllo paranoico la paranoia è il controllo generalizzato con conseguenze dimensioni di ira se non riesce ad arrivare a lui poi il telefonino ti consente di non subire l'angoscia dell'anonimato perché purtroppo oggi una volta l'angoscia dell'anonimato non c'era si viveva nei paesi ci si conosceva tutti si sapeva chi era nessuno era anonimo anzi la caratteristica nefasta dei paesi era che tutti sapevano tutto di tutti adesso non è più così attraverso il telefonino io rischio l'anonimato perché fisso la mia presenza nel mondo sulla base dei riconoscimenti che ho quanti follower ho quanti seguaci ho quanti like ho la mia identità dipende da loro non più da me capite che trasformazioni radicali succedono io mi sento di esistere di esistere in maniera significativa grazie al riconoscimento degli altri al numero del like al numero dei seguaci a un milione di like a un milione di follower e allora sa chi è costui è la domanda che vorrei porre a loro bene allora c'è l'angoscia dell'anonimato come supplisco l'angoscia dell'anonimato ah molto semplice se sono una persona che conta non so in treno mi metto a parlare forte in modo che tutti sappiano chi sono io no oppure spudoratamente parlo anche di questioni intime parlando con qualcuno con la mia fidanzata o meno in modo che io posso parlare anche di questo perché tu non puoi perché sei più sfigato di me ecco questa è l'angoscia dell'anonimato il telefonino ti consente di fare con il telefonino ti aumenta la libertà no signore te la toglie ti toglie il mondo circostante andiamo a cena con un po' di amici a certo punto arriva la telefonata zoom questo mondo in cui sono sparisce perché c'ha la precedenza quello che sta telefonando no quindi perdita del mondo circostante si dice spegnete i telefonini quando c'è il cinema io lo dico quando vado a mangiare con qualcuno se no mi alzo e me ne vado perché non si può interrompere un clima di conversazione anche di partecipazione emotiva perché uno ti telefona perdita del mondo interiore perché se non ti telefona nessuno tu non sai più dove sei perché? perché nel silenzio che non frequenti più non hai mai considerato te stesso non hai mai fatto una riflessione su di te ti sei mai chiesto chi sei? perché chi sei l'hai affidato agli altri poi perdita della libertà perché se uno ti chiama deve rispondere e se non rispondi non è che puoi dirgli tutte le volte che eri sotto una galleria oppure che non c'era campo ti devi giustificare ecco questa si chiama libertà ragazzi riflettiamo su queste cose attenzione a usare quelle macchinette infernali a proposito devo spegnerla anche se non mi telefona nessuno però dopo non vorrei che telefonasse qualcuno di solito mia figlia che interrompe sempre le mie conferenze però avete visto che non telefona nessuno ecco perché quando uno arriva al mio telefono e dico ma lei perché mi telefona su questo apparecchio ah me l'ha dato Repubblico me l'ha dato Fettrinelli ecco lo cancelli non mi telefoni più boom e così succede è vero che voi non potete farle io sì perché sono fecche e non mi interessa più niente del mondo ma però insomma una piccola difesa dovete attuarla anche voi perché il telefonino vi riduce la libertà poi la rete la rete produce altre patologie il computer il computer siccome nell'età della tecnica tu devi essere sempre up to day sempre al corrente di tutto devi essere sempre informato e automaticamente devi essere sempre in contatto con le tue e-mail ti alzi anche la notte per vedere se sono arrivati qualcuno salta fuori una dipendenza da computer pazzesca che non è molto differente dalla dipendenza dall'alcol o dalla droga per cui i tuoi familiari i tuoi figli tua moglie faccio riferimento agli uomini che di solito sono più accaniti con il loro computer di quanto non lo siano le donne ecco non li conosci neanche più per te c'è il computer il computer è il mondo una volta per conoscere il mondo si usciva di casa e si andava fuori adesso per conoscere il mondo devi entrare in casa e accendere quella macchina e però tu conosci un mondo che non è il frutto della tua esperienza ma il mondo che ti viene allestito da quella macchina che non si sa se è il mondo reale dipendenza da computer shopping compulsivo attraverso entrati in un supermercato entrati in un negozio di mobili fate il giro di tutti gli scomparti oppure in un negozio di moda comprate quello che volete sulla base dell'emozione del momento e l'emozione del momento non è tanto rara vi fa comprare delle cose che al momento in cui le comprate siete eccitati e poi quando vi arrivano magari le mettete nell'armadio e vi dimenticate anche di averle perché? perché gli acquisti compulsivi c'è una via a Milano che è il Corso Buenos Aires che io la chiamo la via dei depressi perché il sabato e la domenica è piena rasa che fa fatica a camminare eppure si interrompe il traffico lì per l'eccesso di persone cosa vanno a fare queste persone? a comprare qualsiasi cosa perché se sei depresso il momento che compi una cosa per un momento hai un senso di di soddisfazione e di gratificazione così tutto questo viene facilitato dal computer perché puoi girare senza essere visto senza essere condizionato dalle commesse che ti chiede cosa desidera ti muovi come vuoi e alla fine compri quasi tutto compri tutto tenete conto che attraverso l'informatica noi arriveremo ad un isolamento sociale ad una solitudine di massa da far paura perché non solo noi abbiamo avuto la didattica a distanza ma adesso abbiamo anche il lavoro a distanza che ci chiude in casa abbiamo anche il cinema abbiamo anche il cinema senza dover andare nelle sale cinematografiche quindi stando da soli in casa abbiamo persino quelle che ci portano da mangiare perché non abbiamo neanche bisogno di andare a fare la spesa la tendenza è isolarci tutti perché finché saremo tutti ben isolati poi come stare insieme ce lo vengono a dire quelli che governano l'informatica stiamo attenti stiamo attenti queste cose qua giochi compulsivi giochi d'azzardo giochi in borsa fatti tutti col computer no? con la differenza però che quando perdi se perdi per aver giocato a poker al computer è diverso che se hai giocato in borsa perché se hai giocato in borsa hai perso però la motivazione era quella di investire invece se perdi giocando a poker non è neanche questa giustificazione e allora ti accanisci sempre di più perché non trovi una ragione e allora ricominci di nuovo a giocare in maniera compulsiva poi c'è il cibersesso il cibersesso è interessante perché nel cibersesso a parte la mia identità che di solito viene mascherata no? viene mascherata perché lì io posso esprimere tutte le mie fantasie sessuali con un partner non è altrettanto mascherato il quale esprime le sue e si gioca sulla base delle perversioni e dopo allenandoci a questo tipo di sessualità facciamo scadere a insignificante il sesso del corpo a corpo il sesso reale perché è molto meno interessante del sesso perverso non c'è dubbio il sesso perverso è molto più attraente è pieno di fantasie che non si realizzano nel sesso reale avevo già detto prima quello che potevo testimoniare a livello psicoanalitico di ragazzi che hanno le rispettive ragazze però preferiscono il sesso il cibersesso e poi le chat le chat sono la cosa più fantastica che esiste perché con le chat come se fate voi parlate con qualcuno ma costruite il vostro profilo vero? profilo siete voi no siete quello che vorreste apparire agli altri è il vostro io ideale che non è reale e dopo che siete dentro in una chat ti sei inventato un profilo usi delle categorie così banali che scoraggi subito l'interlocutore ma tu non lo sai perché siccome sei uno che ha poca dimestichezza con la cultura ti crei qualcosa che non incuriosisce al di là dell'aspetto fisico ma comunque ti crei un io ideale che poi quando torni nella realtà questo io ideale che ti sei costruito per conquistare o per discutere con la chat non ti è riconosciuto da quelli che ti girano intorno dai tuoi amici dal mondo reale in cui ti muovi questo ti deprime e cosa fai? ritorno in chat ecco qui l'altro passaggio tremendo badate bene l'informatica crea di questi problemi e le nostre emozioni vengono radicalmente modificate in peggio naturalmente ora queste trasformazioni radicali dell'umanità le abbiamo sotto sott'occhio oppure il passaggio è così poco che non ce ne accorgiamo neanche per cui diventiamo mentre una volta per esempio il conformismo era un prodotto dalle dittature bisogna essere così adesso diventiamo così con la nostra collaborazione abbiamo una dittatura che avviene con la nostra collaborazione creando una società omologata conformista dove tutti vogliono le stesse cose che Nietzsche aveva già previsto là dove scrivono lo Zaratustra quando uno la pensa diversamente va spontaneamente in manicomio basta ecco queste sono le grandi trasformazioni sociali su base emotiva non su base razionale chiudiamo con una considerazione che riguarda i nostri studenti che per effetto di questa diffusione informatica le cose che sanno i nostri studenti non le sanno perché le hanno lette le sanno perché le hanno viste o perché le hanno sentite nei loro auricolari siamo passati dall'Homo sapiens all'Homo videns con una grossa regressione basta pensare alla regressione della scrittura quando voi dovete esprimere un'emozione col telefonino mettete quelle faccini che mi irritano terribilmente perché sembra che siate ritornati ai disegni dei primitivi sulle api rupestre sui muri rupestri sulle caverne rupestre facevano i disegnini per esprimere noi siamo tornati lì per esprimere un'emozione perché non abbiamo il linguaggio non sappiamo come si fa a esprimere un'emozione che proviamo verso una persona è una faccina bella regressione anche questa bene i ragazzi sono passati cosa succede che passando dall'Homo sapiens quello che parla che legge e che scrive all'Homo vides sapete che perdiamo un sacco di cose io dando un'occhiata ai sillabari dei miei nipotini ho visto che sono pieni di figure pieni di figure e io pensavo ma quando io andavo a scuola non c'era neanche una figura sui sillabari era tutto scritto e questo cosa comporta è che quando voi leggete lavorate con un'intelligenza che si chiama sequenziale perché voi cominciate da sinistra andate a destra poi andate a capo avanti così no? che è diversa dall'intelligenza richiesta dalla visione che non è un'intelligenza sequenziale è un'intelligenza simultanea quando voi vedete un quadro non è che andate da sinistra a destra a destra a destra a sinistra capito? ma cosa si perde perdendo l'intelligenza sequenziale perde un fattore importantissimo se io leggo la parola cane io davanti a me non ho la figura del cane e il mio cervello deve tradurre segni grafici C A N E in un'immagine deve farlo al mio cervello perché non ce l'ho davanti se ce l'avete davanti il cervello è esonerato diventiamo stupidi eppure di essere esonerato non è più capace di leggere l'Ocse ha detto che il 70% degli italiani sa leggere meno male però non capisce più cosa legge perché non la frequenta più la lettura